84, 30 Passa partenza del numero 31 Maggiori Partenza regolare questa volta Maggiori che prende subito il comando in modo deciso Vai macchina Vai Si fa sicuramente un tempo di giurimento molto interessante quello di Maggiori ma attenzione perché le spalle guarda che c'è una campana le spalle si appiccina il numero 50 rincava a tira qui o mai viene veramente alle spalle 45 e 480 c'è una passa è il numero 203 Salerno Davide Maggiori questa volta è Citerio si è Citerio che prende la prima posizione seguito Salerno Davide e dietro di loro in terza posizione Vignazza Cristiana della Patronese vicinissimi i primi due Citerio e Salerno che passano alla campana di un giro il tempo della prima è stato di 45 e 480 vediamo se sarà superato e penso 440 196 tu gli hai detto di ora 44 alza anche stavolta è il numero 1 ci l'hai? ci l'hai? ci l'hai? no siamo tempo la vendo vai vai dai 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 vediamoli all'arrivo dai 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 e Siri Mattia con 44 7,9 Invece Cisello Basta Dai Ale dai Dai Ale dai Dai Ale dai Dai Ale Dai Ale Dai Dai Ale lunga Briano, Cruze, Miratti c'è l'attacco all'interno Dai Ale dai Dai Ale dai Abbiamo sentito la campanella Lunga abbastanza precisamente la trezza della seconda line Briano e Alessandro sul riferimento guardo con un tempo in 48 9,5 e tre Qua scatta qua dai baschieri di Natos che che è Cassano Intanto si preparano le junior femmine Quanto in Valida Sembra Abis quello che prende il momento Dai Pavli Dai Pavli Dai Pavli Luciano Dai Pavli Dai Pavli Dai Sembra Abis Tenera Miallo Tenera Visite le donne di Sardegna e di Sardegna Comunque di Sardegna è il 45 secondi ecco l'attacco all'esterno di Sardegna